Assisti e benedici Signore i tuoi figli che oggi inaugurano questa casa sacerdotale. E' con questa benedizione che il Patriarca di Venezia inaugura la nuova casa sacerdotale del Centro Pastorale Diocesano Cardinale Urbani, un momento toccante e di preghiera. E' un momento di gioia perché si raccoglie il frutto di tanto lavoro, di tanta condivisione e si dà un'opportunità ai nostri sacerdoti di vivere assieme anche nel tempo dell'anzianità o della sofferenza. La casa può ospitare fino a 15 sacerdoti che possono essere accolti anche quando magari la salute viene meno, l'anzianità rende difficile la vita. Attualmente i primi saranno una decina che vengono a risiedere dalle prossime settimane. Ed è tutto pronto per i presbiteri che già dalla settimana prossima entreranno in questa nuova e grande casa, costruita con tanta fatica ma con l'obiettivo di essere l'ultima dimora di un lungo viaggio sacerdotale. I nostri sacerdoti quando poi sono ammalati o anziani dovevano o emigrare in diocesi fuori Venezia per essere accolti in case di assistenza oppure erano costretti a stare in casa da soli anche quando la vita diventa un po' faticosa. Qui invece possono essere accolti con dignità e semplicità e soprattutto condividere anche la fede.